Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Parliamo delle ultime notizie, una notizia inquietante arriva dal veneziano Susanna Lazzarini, la donna che ha confessato per un prestito di Natale da spendere per i regali lo strangolamento a mestre a fine dicembre di un'anziana, Francesca Vianello, ha confessato, pensate, un secondo delitto. La donna, secondo quanto riferisce la squadra mobile di Venezia, ha detto di aver ucciso nel 2012 un'altra persona, si tratta di Lida Taffi Pagno, circostanza che aveva portato in carcere con una condanna in primo grado a 24 anni un'infermiera a sua vicina di casa, Monica Busetto, che si è sempre proclamata innocente. A San Bonifacio i carabinieri, siamo in provincia di Verona, hanno intensificato la protezione alle sorelle di Pietro Maso in seguito alle minacce di morte che il fratello avrebbe rivolto alle due donne. Maso, 44 anni, nel 2013 ha finito di scontare 22 dei 30 anni di condanna per aver massacrato insieme a tre amici i genitori nel febbraio del 1991. Come riporta il Corriere di Verona, Pietro Maso, che il mese scorso era già stato denunciato, ne avevamo parlato anche noi, era già stato denunciato in seguito a un esposto presentato dalle sorelle. Dopo aver inviato, per sbaglio, un SMS minaccioso nel quale chiedeva soldi ad un uomo che gli aveva già prestato denaro, adesso avrebbe rivolto gravi e fondate minacce di morte a tutte e due le sorelle, a Nadia e Laura. E per questo i carabinieri, che già le tenevano sotto controllo, le hanno informate delle minacce intercettate in alcune telefonate di Pietro Maso, rafforzando il servizio di protezione nei loro confronti. In provincia di Padova, ieri sera ad Albignasego, si è svolta una fiaccolata per Isabella Noventa, la donna di 55 anni scomparsa dal 15 gennaio, con un simbolico abbraccio alla famiglia, quasi un migliaio alle persone presenti sul posto. E' stato ricordato durante la serata anche Rosario Sanarico, il sub della Polizia di Stato che ha perso la vita durante le ricerche di Isabella. Guardiamo alcuni momenti della serata. La comunità di Albignasego, ma non solo, martedì sera si è stretta attorno ad un abbraccio simbolico alla famiglia di Isabella Noventa, la donna scomparsa dal 15 gennaio. Una marcia silenziosa, fatta di dolore per la tragica fine di questa donna, della quale ancora non si riesce a trovare il corpo. La fiaccolata ha voluto ricordare anche Rosario Sanarico, il sub della Polizia di Stato che ha perso la vita durante le ricerche del corpo di Isabella nel fiume Brenta. Paolo Noventa ha letto una lettera indirizzata alla sorella. Parole d'amore e di dolore che hanno commosso i presenti. Cara Isabella, nel corso della mia vita mai, neppure per un momento, ho immaginato la mia esistenza senza di te. Non l'ho mai fatto perché non ne avevo un valido motivo, perché davo per scontato che tu ci fossi, che eri la sorella che il destino mi aveva generosamente posto accanto. E quindi era giusto così. Neppure io mi ero posto l'idea che tu potessi essere diversa da quella che eri. Davo per scontato che tu ci fossi sempre, perché nel momento del bisogno davo per normale che tu fossi una brava sorella. La lettera preziosa, solerte, discreta, com'eri. La lettera poi si è interrotta. Troppo dolore per continuare a leggere e così ha proseguito l'avvocato Balduin. La lettera si è conclusa con un appello ai tre arrestati perché dicano dove si trova il corpo della donna. A voi che odiavate Isabella, a voi che avete avuto la freddezza disumana di toglierle il respiro, a voi che per ultimi avete attaccato che il suo cuore cessasse di battere, a voi mi rivolgo soprattutto a nome della mia disperata mamma e di tutti coloro che l'hanno amata e conosciuta. Ridateci il suo corpo. Dateci la possibilità di incontrarci per piangerla e consolarci in un luogo comune e a tutti noi che l'amiamo. Dateci almeno questo. Con Isabella ci avete tolto tutto. La speranza di riavere il suo corpo? No. Avvocato Balduin, una grande partecipazione da parte della comunità di Albignasego ma anche da parte di tante persone che sono venute da fuori, che si sentono vicino alla famiglia di Isabella. Direi di sì e questo non può che farci piacere. Tra l'altro ci fa enorme piacere anche che sia stata presente l'associazione Penelope a mezzo dell'avvocato Nicodemo Gentile che ha deciso di far partecipare Penelope anche alla difesa della famiglia 90 proprio per supportarla anche con dei propri tecnici. Difatti domani mattina sarò in procura per nominare la dottoressa Baldi come nostra genetista proprio per proseguire le indagini ematiche che sono attualmente in corso da parte della dottoressa Cainazzo. Domani ci saranno le indagini anche sulle vetture per cui confido che sia presente anche la nostra consulente che verrà appositamente da Roma. Ecco è stata letta una lettera questa sera molto toccante, molto forte che rappresenta ovviamente il sentire di Paolo 90 e alla fine è stato rinnovato l'appello. Eh sì perché diciamo che questa è l'ultima spessa, l'ultima speranza. Io questa lettera la consegnerò ai colleghi difensori dei tre imputati e mi auguro che abbiano ancora un briciolo di cuore, abbiano ancora un briciolo di umanità e che finalmente torni a loro la memoria e dicano dove hanno seppellito e dove, in che modo hanno seppellito Isabella 90. Perché ha diritto la madre, ha diritto il fratello, hanno diritto i nipoti di conoscere dov'è. La squadra mobile della polizia di Verona ha denunciato cinque cittadini cinesi, due uomini e tre donne. Nei loro confronti è scattata l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel corso di un'indagine la polizia ha scoperto che in due centri massaggi nella periferia sud della città di Verona venivano offerte con pagamenti extra, prestazioni sessuali da parte delle ragazze che lavoravano all'interno dei due centri. Parliamo di ragazze di nazionalità cinese. Le strutture sono state sequestrate. Prima la visita della polizia municipale per motivi di sicurezza alle cucine popolari di Padova. Ieri dopo un'ondata di polemiche la risposta del vescovo della città, Monsignor Claudio Cipolla, che si è recato a mangiare con i poveri della mensa per esprimere solidarietà a Suorlia che la gestisce. Sono venuto a mangiare tra amici, ha detto Monsignor Claudio Cipolla. Il nostro impegno è per i poveri, per loro bisogna fare sempre di più e sempre meglio. Circa due chili e mezzo di eroina sono stati sequestrati. Sette persone sono state arrestate in flagranza per spaccio di stupefacente. Altre sono state denunciate. Sentiamo i dettagli di questa operazione scattata all'alba di oggi. Imponente operazione dei carabinieri di Venezia contro lo spaccio di droga. Arrestate sette persone e sequestrati quasi due chili e mezzo di eroina. L'attività si è svolta con l'ausilio di unità cinofile e un elicottero. Le indagini sono partite dalla segnalazione di attività di spaccio tra Venezia, Mestre e Marghera. L'attività investigativa ha permesso di scardinare i vertici del gruppo criminale composto da tunisini che si avvalevano di italiani per mansione di manovalanza e supporto logistico. La banda aveva come piazza preferenziale la periferia di Mestre. Gli spacciatori si nascondevano in edifici abbandonati nei quali procedevano al taglio e alla distribuzione al dettaglio della droga. Nell'operazione sono state denunciate anche tre persone. Parliamo ancora di un'operazione antidroga che si è svolta in Veneto, questa volta in provincia di Padova. Padre e figlio di 75 e 40 anni residenti a Correzzola incensurati sono stati arrestati dalla polizia per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. agenti della mobile di Padova li hanno bloccati al casello autostradale di Padova, zona industriale, durante un controllo. I due sono stati trovati in possesso di oltre un etto e mezzo di cocaina per un valore di circa 20 mila euro. I poliziotti si erano insospettiti per la velocità molto alta della vettura sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto presa a noleggio. Secondo l'accusa, la coppia agiva in completa autonomia, adottando vari espedienti per riuscire a sfuggire ai controlli che padre e figlio riforniva di droga a numerosi clienti nel centro della città di Padova. Terraferma veneziana, un incendio ha distrutto un'autofficina. È successo ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti con alcune squadre. ben 18 gli uomini che hanno lavorato per domare il rogo. Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato martedì sera in un'officina di Dese. Le fiamme altissime hanno divorato la struttura distruggendola. Paura per un'abitazione che si trova a fianco dello stabile interessato dalle fiamme, ma l'attività dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Per domare il rogo sono stati impegnati 18 uomini dei vigili del fuoco e 6 mezzi. Nessuna persona ha riportato conseguenze, gravi i danni subiti dall'autofficina. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le cause dell'incendio dovranno essere stabilite. Due uomini di origine cubana senza fissa dimora sono stati arrestati dai carabinieri di Somma Campagna, in provincia di Verona, con l'accusa di tentato furto in abitazione. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni residenti che avevano visto tre persone scavalcare le recinzioni di alcune abitazioni di Sona, sempre in provincia di Verona. Due uomini sono stati bloccati e addosso avevano oggetti per lo scasso appena utilizzati per tentare l'effrazione di una finestra. Il terzo complice invece è riuscito a fuggire. E adesso una notizia che arriva dal mondo della sanità, ma che riguarda anche le nostre abitudini nell'alimentazione. È saporito, per molti è indispensabile, anche in maniera esagerata. Stiamo parlando del sale. Attenzione perché un uso eccessivo provoca danni molto seri alla salute. Parte la sensibilizzazione su un corretto e limitato uso del sale. Il giusto utilizzo è fondamentale per la buona salute. Purtroppo tutti noi siamo abituati al suo abuso e l'assunzione avviene anche tramite cibi che già lo contengono e che quindi va ad aumentare la dose consentita. Il 75% del sale che si consuma è invisibile, contenuto in cibi qualche volta insospettabili. Proprio al sale nascosto è dedicata la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, organizzata dal Lounge Wash che si conclude il 6 marzo. Siamo ancora molto lontani da raggiungere l'obiettivo posto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di un consumo individuale di sale non superiore a 5 grammi al giorno, corrispondenti a 2 grammi di sodio, afferma la Società Italiana di Nutrizione Umana. Il consumo tipico di un italiano adulto è oggi invece vicino ai 9 grammi e in molti casi li supera ampiamente. Dimezzare l'assunzione di sale da 10 a 5 grammi al giorno, spiega il gruppo di lavoro intersocietario per la riduzione del consumo di sodio in Italia, riduce del 23% il rischio di ictus e del 17% il rischio di malattie cardiache. Ed ora diamo uno sguardo alla situazione climatica. Da questa sera fino a domani mattina, precipitazioni diffuse con forti rovesci e temporali. I quantitativi vengono indicati anche localmente consistenti. Limite della neve in abbassamento fino a quote collinari, parliamo di 300-500 metri, con probabili accumuli fino ai fondo valle. Possibili fasi di neve o neve mista a pioggia, localmente anche in alcune zone di pianura. Significativo rinforzo dei venti, in prevalenza dei quadranti settentrionali a tratti forti nella mattinata di domani. Quindi c'è questo peggioramento delle condizioni climatiche in arrivo, che vengono segnalate addirittura in rosso dall'ARPAV del Veneto. Siamo arrivati al termine di questa edizione del telegiornale. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo subito dopo la nostra sigla, l'appuntamento con l'esperto tributarista Alberto De Franceschi, appuntamento ormai abituale del mercoledì, e subito dopo lo spazio con Obiettivo Città, dedicato alla città di Padova. Grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani. Signore e signori, buonasera. Con la collaborazione del mensile La Voce, dell'Alta Padovana, Miranese e Bassamarca, e offerto da Vidor Taglie Comode Unlimited Size, va ora in onda, risponde l'esperto. Buona visione! Amici di Risponde l'esperto, buonasera, bentornati a questa nuova pillola. Come preannunciato la scorsa settimana, oggi parliamo di certificazione unica. Ora, altra cosa molto importante, per esempio, sono i giorni per i quali voi avete, diciamo, indicato come lavoratore dipendente, o come pensionati, che sono rispettivamente al rigo 6 e al rigo 7, perché chiaramente nei giorni che sono qui, inscritti, normalmente sono 365, ma potrebbero essere meno, sono fatte le detrazioni per il carico di lavoro dipendente. Quindi ci sono delle detrazioni che vi spettano. Chiaramente queste detrazioni sono ragguagliate al periodo in cui voi siete o un lavoratore dipendente o un pensionato. Facciamo un esempio molto semplice. Un lavoratore dipendente che nel corso dell'anno abbia avuto più rapporti di lavoro dipendente, ma non abbia avuto, per esempio, l'intero anno di lavoro dipendente, ecco che nei campi del punto numero 6 della certificazione unica troverà una somma di giorni paritetica ai giorni che ha lavorato. Qualora invece fosse stato applicato un numero superiore, quindi sommando, vengono fuori più giorni, ecco che avrà usufruito di maggiore detrazioni di quello che gli spettano e deve tassativamente fare il modello 730 per andare a riversare quello che gli è stato versato in più. Vi informo, non pensate che non facendo questo tipo di dichiarazione nessuno si accorga, perché ormai viaggiamo sul canale telematico, per cui è evidente che tutti vanno a verificare in modo automatico se avete usufruito maggiori detrazioni, poi vi arriva la multa a casa mediante un avviso di erogazione di accertamento e lì ci sono le multe da pagare perché avete usufruito di un'indebita detrazione che non vi spettava per il periodo. Altro aspetto, per esempio, molto importante è la sezione seconda, ovvero sia dove ci sono le ritenute. Nello specifico a quello a cui mi riferisco è il Rigo 21. Allora, molto spesso succede che per esempio noi siamo convinti di poter avere tanti soldi indietro dal fisco perché abbiamo tante spese sanitarie, per esempio, o perché abbiamo tanti oneri detraibili o deducibili. Purtroppo, qualora nel campo 21 che sono ritenute all'IRPEF non ci fosse scritto nulla e quindi fossero ritenute zero, purtroppo è inutile presentare qualunque tipo di dichiarazione perché non vi spetterebbe alcun credito in quanto in questo Rigo vanno iscritti i crediti le ritenute pagate all'IRPEF per le quali poi vi danno un rimborso chiaramente sulle spese che avete sostenuto in base alle tasse che avete versato. Stessa cosa vale per il Rigo 22 per quanto riguarda le addizionali regionali, stessa cosa per il Rigo 26, stessa cosa per il Rigo 27, stessa cosa per il Rigo 29, stessa cosa per il Rigo 30 e stessa cosa per il Rigo 31. In questa sezione troviamo anche le ritenute sospese, queste purtroppo avvengono nel momento in cui non c'è capienza per andarle a versare quindi per effetto di qualche motivo sono ritenute che sono tenute sospese e non versate, ecco che sarà difficilmente possibile recuperarle. Altra cosa importantissima è la sezione successiva che sono i crediti non rimborsati dall'assistenza fiscale 730-2005 del dichiarante perché da quest'anno hanno suddiviso nella certificazione unica per chi faceva la dichiarazione congiunta i crediti del dichiarante del coniuge in modo tale che ci sia un prospetto dove si legga chiaramente quanto aspettava l'uno quanto aspettava l'altro non ci siano confusione o magari non ci siano crediti che non vengono riportati perché non sono stati rimborsati. Ecco, in questo caso al Rigo 64 qualora il vostro datore di lavoro non abbia potuto rimborsarvi la somma che vi spettava dalla dichiarazione dell'anno precedente l'importo che è qui scritto significa che non l'avete percepito e pertanto potete andarlo a inserire nel modello 730 precompilato e quindi potete andarlo successivamente a richiedere a rimborso al nuovo datore di lavoro qualora non ci fosse un datore di lavoro sapete che già dall'anno scorso è possibile fare la richiesta di rimborso direttamente all'agenzia delle entrate che nell'arco entro dicembre dovrebbe liquidarvi con le vie ordinarie ecco un'altra cosa importante sono gli acconti 2015 versati dal dichiarante cosa importante perché li troviamo anche questi inseriti nel CUD ovvero sia troveremo inseriti nel Rigo 121 e 122 gli acconti di imposte che noi abbiamo pagato l'anno precedente per l'anno in corso voi sapete che il sistema IRPEF funziona così nell'anno in cui io percepisco il reddito pago degli acconti delle tasse che devo sostenere nell'anno in cui maturo questo reddito ovvero sia oggi noi potremo pagare degli acconti per il 2016 su tasse che generiamo nel 2016 questi importi di acconti li versiamo proprio nei righi li andiamo a trovare nei righi 121 e 122 chiaramente mi riferisco oramai ai redditi del 2015 gli acconti del 2016 vi preciso che vengono pagati del mese di giugno in avanti per effetto della liquidazione tramite 730 2016 allora andiamo sotto di un'altra sezione e qui cominciamo a trovare la prima novità che sono i crediti non riborsanti per il coniuge stessa cosa che abbiamo detto prima a Rigo 264 ci sono i rimborsi non effettuati ecco che qui possiamo andare a reinserire nel nuovo 730 e andare a recuperare e ovviamente successivamente sotto a Rigo 321 troviamo gli acconti versati e il 322 la seconda rata del coniuge con la dichiarazione unica la prossima andrà in onda la prossima settimana e proseguiremo sull'esposizione dei punti presenti nella certificazione unica di cui stiamo parlando per ora è tutto un saluto a tutti buona serata con la collaborazione del mensile La Voce dell'alta padovana miranese e bassa marca e offerto da Vidor taglie comode unlimited size signore e signori buonasera Obiettivo Città oggi vi parla di società partecipate per questo vogliamo presentarvi il presidente di APS Holding Paolo Rossi Salve il mio nome è Paolo Rossi sono un commercialista ma principalmente sono il presidente di APS Holding dal luglio 2014 APS significa azienda Padova Servizi una società del comune di Padova che è stata fondata tanti anni fa per servire i cittadini di Padova l'operazione più importante che abbiamo posto in essere nel periodo in cui io sono in carica è stato il conferimento del ramo trasporti di APS autobus e tram a una nuova società di nome Bus Italia Veneto SPA perché questo conferimento? per poter partecipare alle gare europee di assegnazione del trasporto pubblico in sede provinciale addirittura provincia e comune di Padova e provincia e comune di Rovigo questa operazione pertanto è stata fatta nell'interesse di voi cittadini per poter gestire al meglio il trasporto in sede locale poter vincere una gara e assicurare il lavoro ai dipendenti che erano di APS holding autisti e impiegati e che ora sono confluiti in Bus Italia Veneto SPA un'altra operazione che APS nel periodo appena trascorso in cui io ricopro la carica di presidente è stata la fusione di un'altra partecipata che si chiamava APS Advertising una partecipata di APS Holding che gestiva la pubblicità nei cartelloni negli standardi nelle 1190 paline bus negli autobus e nei tram quindi una pubblicità di tutte le aziende che vogliano fare pubblicità tramite questi mezzi veniva gestita APS Advertising ma è stato ritenuto di eliminare questa partecipata per fonderla in APS Holding questo nello spirito di eliminazione di troppe società partecipate la cui esistenza forse provoca qualche spesa in più che ricade poi su tutti noi cittadini questa eliminazione di partecipate andrà avanti con un'altra eliminazione di partecipata la partecipata nostra opera e servizi che gestisce il parcheggio e il crematorio di Padova che verrà un domani fusa anche questa in APS Holding elimineremo ancora partecipate per risparmio di risorse per avere meno imposte a carico dei cittadini per avere un servizio anche più efficiente questa è la mia missione questo è ciò in cui credo questo è ciò di cui mi batto quotidianamente nel nostro interesse di tutti noi cittadini per avere il minor spreco di risorse e la maggiore efficienza meno società significa minor spreco di risorse e maggiore efficienza io credo in questo vengo dal mio lavoro che è un lavoro di assistenza fiscale societaria ad aziende private questo ho imparato ho festeggiato in novembre i miei 25 anni di studio professionale e questo cerco di mettere a disposizione di tutti i cittadini per una efficienza migliore quindi ripeto eliminazione di partecipate maggiore efficienza ma servizi più importanti più celeri più positivi nell'interesse di noi tutti meno partecipate meno sprechi e più efficienza questo è cui credo vi ripeto e sono convinto di andare avanti e di portare avanti il progetto che è del sindaco e di tutta la giunta nell'interesse di noi cittadini ho cercato di farvi capire un po' la panoramica di questa nostra società che gestisce i servizi di Padova ricordiamo parcheggi crematorio pubblicità nei cartelloni nel bus nelle paline e quant'altro e con questo voglio salutarvi e alla prossima arrivederci grazie a tutti Grazie.